Grazie a tutti. La donna sarebbe deceduta per un arresto cardiocircolatorio. La donna è stata immobilizzata, stordita dalle scariche elettriche di un teaser e poi picchiata con schiaffi, calci e pugni, finendo sanquinante sul pavimento di casa. A ritrovarla è il marito che ha immediatamente avvertito forze dell'ordine sanitari. La 75enne è stata trasferita nel nosocomio andriese, dove è rimasta sotto osservazione per diverse ore, sino alle 5 del mattino quando il cuore ha smesso di battere. La stessa donna ha raccontato agli inquirenti di aver aperto la porta di casa e di essersi trovata di fronte a due uomini bianchi con volto coperto. Stessi malviventi che cercavano evidentemente soldi o gioielli in possesso dell'anziana nella propria abitazione e che probabilmente avevano già seguito negli spostamenti i due coniugi. Malviventi che sarebbero stati anche rincorsi da un finanziere fuori servizio che, ignaro di quanto fosse accaduto, ha visto i due correre con il volto coperto. Al vaglio degli inquirenti vi sono le telecamere di videosorveglianza delle tante attività commerciali della zona. In prefettura Barletta nel frattempo ha avuto luogo, dopo i funerali celebrati nella cattedrale San Sabino di Canosa, una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Richiesta nuovamente una maggiore presenza di forze dell'Ordine, il prefetto ha assicurato il massimo impegno verso questa direzione.